Sono indette per sabato 9 agosto dalle ore 10 alle ore 19 presso l'aula consigliare del Comune di Sant'Arsenio le elezioni dei nuovi rappresentanti del Forum dei Giovani della Cittadina. L'amministrazione comunale di Sant'Arsenio si legge riconosciuta l'importanza del coinvolgimento dei giovani nelle iniziative sociali e culturali del territorio, nonché il valore della loro partecipazione alla vita comunale, ha istituito il Forum Comunale dei Giovani ed approvato il relativo statuto. Il Forum Comunale dei Giovani nella qualità di organo consultivo e di strumento di conoscenza della realtà giovanile e territoriale favorisce la costituzione di un sistema informativo integrato fra l'amministrazione locale e di giovani rispetto ai bisogni emergenti sul territorio e agli interventi ad esseri relativi, fornisce ai giovani un luogo in cui possono esprimersi liberamente, stimola i giovani alla partecipazione democratica alla vita pubblica, contribuendo alla formazione di un sano e robusto tessuto sociale cittadino e permetta ai giovani di disporre di un forte strumento di dialogo e di relazione istituzionale con l'amministrazione comunale ed in particolar modo con l'assessorato alle politiche giovanili. Potranno votare tutti i giovani di età compresa tra i 16 e i 35 anni che risiedono nel Comune di Sant'Arsenio. Le elezioni dei nuovi rappresentanti del Forum dei Giovani si terranno sabato 9 agosto dalle ore 10 alle ore 19 presso l'aula consigliare del Comune di Sant'Arsenio. Per candidarsi bisogna aver compiuto 18 anni e presentare la propria candidatura al Comune di Sant'Arsenio all'ufficio protocollo entro e non oltre le ore 12 del 4 agosto 2014, corredata di copia del documento di identità. La modulistica è disponibile presso l'ufficio protocollo del Comune di Sant'Arsenio sulla pagina Facebook Forum Giovani Sant'Arsenio e sul sito del Comune di Sant'Arsenio.